Il Pesciarria ha ripescato in promozione con il Castello Difensore classe 92 con un passato anche in Serie D Alla terza stagione nel Castello ha ottenuto l'ambito a promozione Dopo un campionato lunghissimo che ha visto i canturini arrivare sino al quarto e ultimo turno playoff Fai che con noi la foto vuoi parlare senza loro? Mi sento offesa, almeno con noi Poi siete dei miei autentici idoli perché io per tutto l'anno titolo, le partite, i risultati, il marchio, il merito E quindi sono i nomi che di colpo diventano uomini e le rive la foto Facciamo una foto allora, così là Me la porto nell'album dei ricordi, dai vieni con noi Amici dell'Ario Sport, siamo qui alla presentazione dell'Ario Sportivo con il difensore del Castello Cristian Pepè Sciaria Ex difensore Precisiamo subito all'inizio Ex difensore del Castello Ultima stagione del Castello finita quest'anno Ok Si mette i puntini su lei non peraltro Quindi Cristian dopo al terzo anno finalmente questo Castello ha raggiunto l'obiettivo di centrare la promozione Come l'hai vissuta la protagonista? Ma dico è stato molto molto difficile più che altro perché comunque è stata una, penso più di altre volte la vittoria del gruppo perché comunque si sa che nel calcio spesso sono anche altre situazioni al di fuori, non sempre tutti si rema dalla stessa parte e quest'anno non tutti hanno remato dalla nostra stessa parte, noi gruppo, noi allenatore, noi gruppo e giocatore sì e siamo riusciti ad arrivare all'obiettivo che tanto ci era stato chiesto e che noi abbiamo raggiunto in In tanti hanno detto che è stato sicuramente il difensore più forte della categoria ma da parte tua qual è stato l'attaccante più difficile da marcare? Ma guarda senza ombra di dubbio Bomber Mauri che giustamente poi avete premiato onestamente è un'altra categoria lui, non perché lo conosco così ma davvero è di un'altra categoria E adesso che ci hai dato la news che non sarà più il difensore del Castello dove ti vedremo l'anno prossimo? Ma guarda ancora fortunatamente quest'anno qua sarà perché comunque abbia fatto buone prestazioni o diverse chiamate adesso valuteremo un attimo con calma, grazie a Dio l'è stata appena iniziata quindi vediamo un attimo con calma e decideremo Ringraziamo Cristian Pepeciaria ex difensore del Castello